Salve a tutti, eccoci finalmente alla presentazione della New York 604 il nuovissimo speaker fornito dalla ditta Macbess accreditato di 600 watt 4 coni da 6 pollici più tromba in un cubo di 40 cm per lato con soli 15 kg di peso la prima volta che l'ho visto al Macbess Day questo set suonato dall'Encarone quindi con dei 6 corde pensai subito che lo speaker da solo poteva creare dei problemi infatti ha avuto il set nel negozio immediatamente ci ho messo sotto un'altra New York per creare un 8 coni da 6 veramente entusiasmante la testimonianza e l'esperienza di questo primo mese di test è che praticamente non colleghiamo mai le due casse perché effettivamente anche un solo speaker è più che sufficiente a gestire la dinamica per esempio qui abbiamo un Mayoness slogan attivo con un bel si grave da testare adesso appunto è collegata solo la cassa alla Litter Mac solo questa qui, quest'altra è spinta e praticamente riusciamo a gestire dinamiche vi faccio sentire anche strappando ci sto picchiando e non c'è nessuna sbagliatura anche sul C praticamente veramente uno speaker che risolve un'infinità di problemi chiaramente quello del trasporto e della trasportabilità si chiama New York 604 perché è proprio nata dall'esperienza di bassisti newyorkesi che scendono dall'albergo o da casa e si infilano nel taxi con questo set e riescono a gestire qualsiasi situazione live salve a tutti